Ti è mai capitato di sentirti a disagio perché non sai cosa fare? E pensi, qualunque cosa io faccia comunque andrà male, comunque non ci riesco? O comunque sentirti talmente pesante da non riuscire a muoverti? Beh, a me è successo per decenni e sai perché? Perché non vedevo lo scopo, non vedevo qual era la mia meta. Finalmente ho capito, ho messo insieme questi quasi 30 anni di esperienza e ne ho fatto un corso di 8 ore, sono solo 8 ore che si intitola proprio dritti al sodo perché io sono stanco di perdere tempo. Tu?